Il gigante della logistica americana UPS ha rinunciato all'acquisto della rivale olandese TNT, dopo che l'antitrust dell'Unione Europea ha reso noto alle due società che non avrebbe dato il suo via libera all'operazione. Un'operazione da oltre 5 miliardi di euro lanciata sotto forma di OPA a marzo del 2012 e doveva essere finalizzata all'inizio dell'anno. Ma UPS ha informato TNT che non vedeva alcuna prospettiva realistica per un accordo della Commissione Europea. Grazie.